Radio Bruno Ecco qua, la stafetta è arrivata a Capi, finalmente abbiamo fatto una cosa molto bella, sono partiti stamattina dalle 10.45 da Vigarano-Mainarda, poi piano piano sono arrivati alle 6.40 a Civeno. Oggi è stata una bella giornata, bella giornata di sport, bella giornata di solidarietà e ringraziamo Radio Bruno che ci ha dato questa possibilità di essere visibili. Allora, la giornata è stata magnifica sia dal punto di vista meteo sia dal punto di vista partecipativo. In tanti siamo partiti nei 9 punti del cratere e in tanti siamo arrivati qui in piazza Martiri a Carpi. Sono molto contenta di questa manifestazione, direi che è stata molto significativa, vedere tanti comuni insieme partecipare dopo diversi anni dal sisma a questa iniziativa non lo trovo scontato. Bellissima la partecipazione, bellissima anche l'idea di devolvere veramente per chi ha bisogno anche ricavato di questa giornata. Per cui rimango sempre colpita da le realtà associative, sportive ma non solo, che si dedicano sul nostro territorio veramente ad aiutare chi ha bisogno.